Ciao a tutti, bentornati sul canale! Dunque, voglio continuare a parlarvi di FOP, il negozio di musica, film, magliette, insomma tutte queste cose bellissime che ho visitato a Londra nella mia recente vacanza e nel video di qualche giorno fa, diciamo, avete visto quello che ho comprato, quello che ho speso a livello di vinili mentre oggi vi mostro due film che ho preso, chiaramente hanno la versione italiana per quanto riguarda l'audio e sto parlando di Renfield e poi sto parlando di 65, 65, film con Adam Driver e mentre Renfield è ovviamente con Nicolas Cage, film pagati una sciocchezza, molto meno di Amazon, non sono 4K ma me li sono fatti andare bene lo stesso visto il prezzo sto parlando di 11 sterline per uno e questo qui 14 sterline perché due venivano 22 ma non ho trovato un altro di questa offerta quindi le andiamo ad aprire insieme e poi diciamo proprio tre parole su questi film allora iniziamo con 65, con 65, con Adam Driver e lo andiamo ad aprire insieme vedete che appunto 11 sterline sono 13 euro, 14 euro quindi prezzo più che valido, assolutamente buono per l'acquisto nel negozio fisico allora all'interno vediamo così una confezione del Blu-ray leggermente più spessa mi piace anche molto perché diciamo è una peculiarità dell'estero le versioni italiane sono sempre più sottili quindi diciamo un valore aggiunto in più a che serve lo spessore in più? serve ad avere questo spazio maggiore qui in modo tale da non far poggiare la parte di sotto del disco sulla parte interna della custodia ma in pratica rimane sospeso e quindi non toccando non si va a rovinare mai e quindi rimane fondamentalmente eterno per quanto riguarda diciamo le caratteristiche audio e video vediamo che appunto abbiamo l'audio inglese, tedesco e italiano mentre per quanto riguarda le codifiche l'italiano è un DTS HD Master Audio e lo stesso vale per inglese e tedesco ovviamente non mi aspetto il Dolby Atmos perché è una versione Blu-ray normale quindi non c'è mentre per quanto riguarda Renfield film che aspettavo di vedere da tanto ma diciamo non era nelle mie priorità l'ho diciamo messo nella lista di quelli che avrei dovuto prendere prima o poi poi qui l'ho trovato a questo prezzo ridicolo e l'ho preso al volo anche per avere diciamo delle versioni straniere qui abbiamo invece la custodia quella Blu-ray classica quindi diciamo si vede che questo è pensato anche per il mercato europeo e questo tipo di custodia ad esempio non mi piace molto perché come potete vedere è molto facile premere la parte della carta qui e andare a toccare direttamente il disco quindi non capisco perché facciano questo tipo di custodie è vero che qui anche se non c'è quello spessore il disco non tocca diciamo la plastica perché appunto ci sono questi fori ma è anche vero che il disco è molto più esposto a un pericolo dall'esterno però vabbè noi li trattiamo bene quindi siamo piuttosto sicuri che non vengano rovinati per quanto riguarda le caratteristiche audio e video abbiamo ovviamente l'audio in inglese, francese, tedesco e italiano e unica cosa che il DTS HD Master Audio è solo in inglese mentre le altre lingue sono in DTS HD normale High Resolution Audio questo non mi sembra di averlo già testato sul mio impianto ma insomma lo vedrò a breve quindi poi vi saprò dire diciamo che volendo spendere due parole su questi film le trame sono molto semplici 65, 65 diciamo ha una trama che tra l'altro copia anche un po' il pianeta delle scimmie perché un'astronave viaggia nello spazio a un certo punto si ritrova su un pianeta che non si sa qual è alla fine si scopre essere la Terra ma preistorica quindi ci sono i dinosauri eccetera eccetera ma diciamo io non l'ho ancora visto ho visto solo trailer e cose varie quindi non critico vi saprò dire dopo per quanto riguarda invece Renfield mi piace molto questa idea di questo film perché abbiamo visto 6 miliardi di film su Dracula ma mai su Renfield o meglio abbiamo sempre visto Renfield come aiutante, spalla come vi pare quello che vi pare di Dracula ma invece in questo caso il film è su di lui ovviamente si vede anche Dracula ma diciamo che il protagonista non è Dracula ma è appunto Renfield quindi sicuramente sono molto curioso e chiaramente voglio anche sapere nei commenti qui sotto se voi li avete visti e se vi piacciono ovviamente vi lascerò i link di Amazon per comprare le versioni italiane anche se ci sono disponibili su Amazon le versioni inglesi ma potete poi cercarvele partendo dal link che vi lascio io eventualmente voleste proprio queste le potete trovare navigando e perdendoci proprio 3 minuti detto ciò a questo punto vi chiedo il solito pollice in su se vi è piaciuto il video e vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così non vi perdete nessuna delle prossime cose che arriveranno nei prossimi giorni detto ciò io vi saluto e ci vediamo molto presto ciao